La vastese batte il vasto Girardi, non ce la fa la formazione molisana a confermare il trend positivo dopo la sosta obbligata di sette giorni fa. In campo una vastese rigenerata dalla cura del molisano D'Aderio, una vastese che esprime un buon gioco dall'inizio alla fine del confronto. Stringe i denti il vasto Girardi che nelle prime battute rischia qualcosina, una richiesta per un penalty da parte della vastese non concesso al direttore di gara. E poi esattamente al minuto numero 11 il tentativo con il piattone in corsa da parte di Solimene con la sfera che si spegne sul fondo. La vastese ha mascinato gioco dall'inizio del confronto, il vasto Girardi ha puntato soprattutto nelle azioni offensive in contropiede. Qui Mercai se ne va in profondità, prova il tiro e Di Rienzo non si fa ingannare. Il portiere molisano in tuffo riesce a ribattere la conclusione. Vastese che attacca sulla corsia di destra con il cross perfetto da parte di Obodo. Il pallone arriva in area di rigore, è sporcato ma c'è la rovesciata vincente da parte dell'argentino Leandro Martinez che scarica in fondo al sacco il gol del vantaggio della vastese. Ruggeri su punizione ci prova, Di Rienzo con la punta delle dita va a deviare la sfera. In calcio d'angolo, contropiede vincente da parte del vasto Girardi con Guida che entra in area di rigore. Stretto nella morsa di due giocatori tra cui Capitan Di Filippo concede il penalty il direttore di gara. Mercai spiazza Di Rienzo per il gol del pareggio che rimette tutto in parità. Esattamente al minuto numero 26, Vastese che butta la testa giù cercando di attaccare. Vastor Girardi che stringe i denti. Ottima partita sulla corsia di destra per l'ex Campobasso. Le noci che costruisce questo tentativo. La sua conclusione con il mancino con le spera tra le braccia dell'estremo difensore del vasto Girardi. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa. Si riparte con il risultato di parità ma la Vastese è a tutto campo. Qui l'affondo da parte di Diallo, pallone in mezzo. Le noci controlla e poi scarica in rete col pallone che guida. In qualche modo riesce a deviare ma con la sfera che termina la sua corsa in fondo al sacco. La Vastese mette freccia. Ritrova il vantaggio esattamente dopo quattro giri di lancette. Ancora Vastese, questa volta il colpo di testa perfetto di Di Filippo sugli sviluppi del calcio d'angolo. Con la sfera preda del portiere Guerra. Ancora Vastese con questa girata in corsa. Con la conclusione di Tommaso Bernardi. Con la sfera alta di un niente sulla traversa. Unico tentativo nella ripresa da parte del vasto Girardi. Questa sventola dai 20 metri con la conclusione di Mere deviata in calcio d'angolo dal portiere di Rienzo. E poi qui c'è il calcio di rigore. Quello che va a chiudere il confronto con il tentativo di Di Filippo. Che viene steso alla trasformazione impeccabile del penalty di Di Arrata. Poco in campo. Che spiazza Guerra per il gol della sicurezza per la Vastese. Per il gol del 3-1. Nel finale in contropiede la formazione di casa. Rischia anche di realizzare il quarto gol con Manona. Da poco in campo. La conclusione però del Coloreded. Con la sfera che termina abbondantemente alta sulla traversa. Perde il vasto Girardi. Che lascia l'intera posta in più a dio. Avvasto alla formazione di mister D'Adderio. Grazie. 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 Grazie.